Ciao a tutti ragazzi, sono Happy! Bentornati su Mega Wow! Siete pronti per una nuova avventura? Lo sapete che io quando si parla di avventure non mi tiro mai indietro? Allora ecco quello che ho fatto, oltre al bagno nello slime. Ho inviato a Lilla un nuovo gioco e l'ho sfidata. Deve inventare una storia con le sue LOL e se riuscirà a farmi ridere, allora io dovrò fare una penitenza. Dovrò buttare via tutte le mie caramelle preferite. Ma io sono pronto! Non perderò per niente al mondo! Nel caso ho anche del limone da mangiare, se sto per ridere. Allora iniziamo! A te Lilla! Ragazzi ciao! Guardate che cosa ho oggi sulla mia scrivania! Il LOL Surprise Pop Store è pieno di segreti, angolini curiosi, non vedo l'ora di spacchettarlo ma devo resistere e chiamare Sia prima. Sia? Ehi Sia! Vieni a vedere la sorpresa di oggi! Eh? Mi hai svegliato sai? Ma questa non è neppure la tua mascherina. Eh lo so l'ho preso in prestito. Dai svegliati e andiamo ad aprire il Pop Up Store! Il Pop Up Store delle LOL! E che cosa aspettavi a svegliarmi? Ma 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 mi hai detto che stavi dormendo. Beh! Banda le cianci! Apriamo! Apriamolo! Ragazzi che emozione e che bellezza tutto quello che riguarda le LOL! Wow! Ammiriamo la panoramica! Questo playset è gigante e può diventarlo ancora di più! Ehi Sia! Guarda un po' può farlo scorrere e... Tadam! Guardate un po' aprendolo è diventato un vero e proprio centro commerciale! Abbiamo anche un muro che può servirci per costruire altre zone o per portare via poi il nostro playset! Ma lo vediamo dopo! Ma hai visto? Sia! È una cosa pazzesca questo posto! E dobbiamo ancora trovare dove è nascosta la LOL edizione speciale! Lilla! Io mi fermo qui! Voglio venire a vendere i vestiti! Oh ma tesoro! Hai visto come sei vestita? In pigiama tutto il giorno! Questo locale è mio! Venderò grandi firme, abiti fashion di tutti i tipi! Che casa? Ehm... Te lo dico in un orecchio! Dimmi... Smamma! Ok! Vado via! Troverò un altro negozio! Ce ne sono mille qui! Dai! Andiamo a guardare in qualche altro punto del Poppa Store! Del resto qui è davvero perfetta! E vabbè! Andiamo! Andiamo! No ragazzi! Vabbè! Il negozio di animali! Ho un'idea! Verrò qui a lavorare io e la mia puzzola! Eccoci! Guarda! Non siamo carinissimi insieme in questo negozio? Ehm... Mi scusi ma questo posto è nostro! Nostro? Sì! Del gruppo delle ragazze! Esatto! Nostro! Chi meglio di noi può gestire un negozio di animali pets LOL Surprise? Ehi! In effetti! Vabbè! Comunque non ci volevo neanche stare! Brava! Allora sai cosa puoi fare? Eh? Cosa? Mamma da qui! Ok! Vado! Vado a rire! Non devo ridere! 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 Ah! Ok! È il momento di usare il limone! Non ho riso! Non ho riso! Non ho riso! Non ho riso! Non stavo ridendo! Oh! Come sono carini! Dai sia! Continua ad esplorare! Troverai un posto per te! Ma sì! Infatti! Oh! Cosa hai visto? Aspetta! 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 Coffee Queen! Questo sembra il posto perfetto per me! Guarda un po'! Dolcetti! Cosa da bere calde e fredde? Miuu! Trovate il posto ideale! Ah! Cocca! Calmati! Questo è Queen! Quindi ci vuole una Glitter Queen! E sono qui apposta! E tra l'altro io e la mia collega Salve! Salve! Siamo bravissime a fare il Coffee Glitter! Quindi tutti vogliono noi in questo posto! Ah! Ok! Calmatevi! Ora immagino che voi mi diciate Mamma da Queen! Eh! Non mi perdo mica d'animo! Guarda un po' quella pizzeria che bella! Uuuu! Non è solo bella! Quella è una pizza super! La pizza dei supereroi! Super buona! Super deliziosa! Ehm! Fammi pensare cosa! È tua quella pizzeria? Sì! Ci lavoro proprio io! Ah! Va bene! Ok! Ripasso dopo! Ciao! Ok! Ciao! Capiamo prima che mi dicano di smammare! Oh! E questo? Che posto è? È pieno di parrucche! Extension! Capelli colorati? Buah! Sono veramente belli! Sì! Benvenuta! Ti piace il mio negozietto? Oh! È il tuo angolo! Sì! Esatto! E beh! Quando vorrei cambiare il colore di capelli ricordati di passare di qui! Ehm! Sicuramente! Bene! Allora anche questo angolo è preso! Oh! Come farò? Ragazzi! Lilla! Ma io pensavo di trovare un posto per me qui dentro che è così grande! Ma no! Ma perché sei piangere? Perché è un dramma! Ma non è un dramma! Andiamo invece a fare una cosa super divertente! Tipo apriamo la LOL edizione limitata che c'è qua all'interno! Sì! Ottima idea! Perché mia cara sia devi sapere che la parte retro super glitterosissima di questo pop-up store contiene ancora dei segreti! Guarda qui! Qui c'è uno specchietto! Ed è uno specchio vero! Ciao ragazzi! Ciao! Poi c'è un cassetto che contiene alcune sorpresine che non ci stavo da stavo dentro! Poi c'è un altro cassetto! Guarda un po'! Ci sono altre bustine! Che carina! Con piena di cuori! E poi c'è anche questo manico che vi servirà per portare come una valigetta in giro il nostro pop-up store! Ehi! Ma qua hai dimenticato qualcosa! Ah! Fammelo prendere! Uh! Hai ragione! Avevo dimenticato questo! Che bello! Sono delle fotografie della nostra futura LOL! Che carina! E non solo! Ti sei accorta di una cosa! Aprende il cassetto e appasso uno spazio per dormire! Tu guarda che meraviglia! Ci sono dei lettini e tantissimi accessori per fare un dolce sonno! Ah! Ma questo è il mio posto allora! Ah! Direi proprio di sì! Finalmente l'hai trovato! Urra per me! Poi guarda! Se hai quel letto e non ti basta puoi fare un pigiama party perché qua ci sono degli altri letti! Sono proprio carinissimi! Ah! Quindi c'era posto per me qui! Eh! Eh! Altro che! C'è posto per tutti! E anzi sia! C'è così tanto posto che se giri i tuoi negozietti e lo infili qua potrai creare un espositore per tutte le LOL! Guarda! Ci sono le forme dei piedini e poi inserire chi vuoi! Ehi! Ma io qua vedo delle nuove bustine! No! Bellissimo! Wow! Spacchettiamo immediatamente! E questa la prendo io tutti! Oh! Accidenti! Non cadere! Eh! Era super pesante! Super pesante! Mi sa che devi mangiare un po' più di spinaci tu! Posizionati tranquillamente qui io vado ad aprire tutti questi sacchetti! Wow! È tutto oro rosa! Bellissimo! Guardiamo cosa è nostro qui! Ehi! Occhiali con le lenti oro rosa! Super fashion! Wow! Il suo vestito! Il vestito della nostra LOL sempre sui toni del rosa e oro rosa! Bellissimo! Un colore bellissimo! Uh! Lo zainetto è volato via con le sue ali tra l'altro! Guarda che bello! Stupendo! l'ultimo sacchettino e poi scopriremo la nostra LOL Ah! Giusto! Mancavano le scarpe! Cioè la vogliamo andare scalza? Secondo te non c'erano le scarpe? Eh sì sì c'erano me ne sono dimenticata! Tutto stupendo fino adesso andiamo a liberare la nostra LOL edizione speciale! E wow! Guardate ragazzi quanto è iridescente brillantissima dei leggings e sono sempre rosa e gli occhi guardate come sbrilluccicano e sbrilluccicano anche i capelli pazzeschi! Oh certo quanta rubina bella! Eh sia ciao ciao benvenuta che stai facendo? Eh stavo guardando i tuoi vestiti sono fantastici! Senti ciccia ti devo dire una cosa eh dimmi dimmi mamma sono i miei vestiti eh sì uffa perché oggi trattate tutti male sia allora andiamo subito a mettere il nostro vestitino guardate com'è bella com'è luccicante nel suo vestitino è veramente qualcosa di super e cosa ne pensate della versione con gli occhiali la preferite con o senza? mi raccomando scrivetemelo in un commento e quando avete finito di giocare potete riporre tutte le lol in ordine sul vostro espositore wow come siete carine tutte insieme adesso provo a chiedere questo cassetto così sarete tutte in ordine che carine ma aspetta un attimo ma e sia dove è finita? oh no non lo sappiamo aiuto ehi no 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 che aspetta la luce shh aspettate aiuto ehi ragazzi non fate scherzi sono qui sia da dove viene la voce? sarà mica in qualche negozietto? no guarda più qui più qui più qui dove sia non è che la voce sia ma che ci fai qui? eh mi stavo riposando no a fuori di fare sonnellini ti succederà qualcosa di peggiore che rimanere chiusando i cassetti oh che spavento poteva essere un dramma ma anche questa volta non l'è stato e anzi stare nel pop a store è così divertente è bellissimo in effetti ragazzi speriamo che anche a voi il pop a store sia piaciuto tantissimo come a noi e lasciateci un commentino per farcelo sapere commentate commentate ma fate finta di non aver visto la mia figuraccia sì non sei stata rinchiusa dentro al cassetto ma assolutamente no un bacione a tutti ciao e al prossimo video ciao ciao allora ragazzi anche oggi il video è finito lasciate il like e iscrivetevi al canale ci vediamo ciao eppi cosa non dimentichi qualcosa la penitenza sì vabbè pensavo che per questa volta si potesse fare a meno no vabbè vabbè dai ora butterò tutte le mie caramelle ecco venti non guardo non piangerò ecco non guardo così non piango ma non sapevate della mia scorta segreta ho nascosto caramelle in tutta la stanza nei posti più impensabili e non potrete mai togliermele tutte ci vediamo al prossimo video ciao ciao